Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, sono emozionato. Ho le lacrime agli occhi. Lancia la palla. No, bloccala e passala. Così invitiamo a perdere i tempi inutili. Come andare a prendere i palloni perché dovete fare le ganze. Palla e passala. Tanto dovete giocare, non bloccare il pallone. Mi chiamate, Ilaria. È importante. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Secondo set. Secondo set. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La seconda. Grazie a tutti. 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 Yes. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti.